Ciao ragazzi, oggi un nuovo video e questo sarà un video solamente sugli acquisti so che il qua dietro non è messo bene ma sto registrando con l'iPhone e ha la... riprende in modo più ampio rispetto alla videocamera quindi si vedranno un pochino i bordi ho cercato di sistemarlo il meglio possibile comunque voglio farvi vedere gli acquisti interamente di make-up che ho fatto da NYX, Essence e Kiko e c'è anche una cosa che però non ho dietro perché l'ho lasciata in macchina io inizierei subito da Kiko, sono andata proprio oggi dalla Kiko a quella di Rienzo e ho preso praticamente tutte le cose che erano ancora in saldo secondo me abbastanza interessanti ho preso, ho anche lo scontrino così vi dico quanto ho speso allora in totale ho speso 19,20€ e ho preso un pennello, quelli smart, tutti colorati che veniva 485, il numero 200 ed è un pennello, sono un pochino piccolini piccolino da, per sfumare la matito per mettere l'uso, per mettere il colore qui sotto perché sono abbastanza precisi quindi ecco, vabbè, questo è un pennello visto che ho solamente quello di MAC così mi sono detto, va bene, prendo un altro tanto 4€, insomma, si può fare poi ho preso due cosine della collezione questa qui, che era Kiko by Giannico Candy Split io di questa ho l'illuminante se non sbaglio che uso volentieri e questi venivano 2,95€ l'uno ho preso lo 01, lo 02 lo 02 è quello che ho sugli occhi che è un bel rosa, sono due ombretti cremosi e appunto lo 02 ve lo faccio vedere anche swatchato è un bel rosa con dei riflessi sia argentati che dorati più argentati, però è molto carino si è asciugato, non vale le pieghette l'ho messo stamattina così in macchina un po' picchiettandolo per vedere com'era anche, sapete, quando non vi va magari di starvi troppo a truccare e volete una cosa veloce ecco, questi cremosi ecco, ero convinta di aver preso quello dorato invece no no, è blu è blu ma lo 01 era dorato ma dai ero convinta di aver preso quello dorato in verità è blu vabbè, ce lo faremo andare bene comunque non mi va a parte vabbè, ormai l'ho aperto quindi però lo 01 ero sicura fosse quello dorato comunque è un bel blu eh, se riesco o mando Corrado a prenderlo no, che c'è da Corrado o vabbè, comunque lo 0 quello dorato era perché per tutti i giorni ha questo blu magari un pochino più impegnativo però anche questo non è male è un bel colore sono belli pieni quindi per 2,95 insomma va bene ultima cosa che ho preso molto bella secondo me è un baked blush della Artic Holiday e questo è lo 02 Dreaming Coral c'erano due colori un altro era un po' più violaceo forte arriva anche con la sua bustina che vabbè, adesso butterò perché non ci faccio niente e questo veniva 8,45 euro c'era un bello sconto credo il packaging e il blush è questo con lo specchietto anche e questo è il blush cioè un super pescato con dei riflessi dorati cioè è una cosa io non credo si veda ma super scrivente guardate guardate che riflessi per 8,45 euro ci sono all'interno 8 grammi di prodotto secondo me questi vale la pena di prenderli poi li proverò sulle guance e vi farò sapere ok poi nei giorni scorsi invece sono andata a Porta di Roma adesso ho le mani tutte e sono andata da Essence era un bel po' che non compravo qualcosa da Essence ho preso un mascara che però quello che ho oggi ve lo farò vedere in un video perché me lo sono portato dietro stamattina e l'ho lasciato in macchina comunque oggi è la prima volta che lo usavo quindi sapete il mio mascara non mi esprimo mai subito perché secondo me bisogna aspettare un pochino di tempo prima di parlarne ho ripreso visto che l'ho trovato il pennello da sfumatura che io ho identico ma con cui mi trovo molto bene quindi se volete provarlo secondo me per il prezzo che ha non so se è per scontrino no questo non ce l'ho più di scontrino ma in totale ho speso non mi ricordo non tantissimo comunque e vabbè questo comunque è ottimo provatelo se vi interessa poi ho preso uno di questi prodotti che credo sia abbastanza recente che è il Metal Art che è sia un liner per le labbra che per gli occhi il colore che ho preso io che è il 05 Rock Cheek è un blu metallizzato però ecco non credo che lo userò per le labbra e lo userò come liner perché è un bel blu scuro ultimamente mi piace fare delle righe delle liner non sempre nere perché per cambiare anche un po' visto che sono tipo 10 anni che ormai che metto la liner è sempre nero dopo un po' stufa quindi ecco per le labbra però magari potrebbero una serata per fare il contorno labbra con un rossetto bello intenso ci può stare e poi ho preso un ombretto cremoso appunto perché vi sto dicendo intanto mi piace mettere solamente un po' di colori così luminosi in crema e ho preso un metal shock volevo quello dorato ma non c'era e ho preso lo 05 moon dust non era molto fornita la coin a porte di roma come al solito però il colore è veramente una cosa aspettate se riesco a richiuderlo cioè guardate che luce lo vedete è una cosa super super wow quindi questo anche cercherò anche quello dorato perché secondo me è molto interessante e ultima cosa molto interessante perché penso sia una novità però non lo so perché appunto essence è un bel po' che non la compro è questo keep it perfect che è uno spray fissante per il trucco che dice appunto essere uno spray leggero e rinfrescante ideale per rifissare e proteggere il make up in modo efficace senza l'effetto appiccicoso ideale per tutti i tipi di pelle quindi va agitato il prodotto e poi spruzzato tenendo gli occhi e la bocca chiusa questo anche lo proverò e se vi interessa vi farò sapere questo il prezzo era sui 4 euro e qualcosa e sono 50 ml di prodotto quindi non l'ho ancora utilizzato non ha un profumo l'ho spruzzato chiarissimo no non sa di nulla quindi bene e niente quindi se vi interessa questo vi farò sapere visto che sto comunque spray fissante certe volte costicchiano un po' ok quindi questo era essence poi sono andata da lasce ma ho preso solamente una cosa perché mi serviva sono andata diretta perché ogni volta che entro da lasce poi vengo assediata dai commessi e sono molto simpatici gentili però poi mi fanno spendere troppi soldi quindi sono andata diretta a prendere quello che mi serviva che era appunto lo shampoo che si chiama a testa alta è uno shampoo per capelli grassi con succo fresco di papaya mango annas e kiwi per pulire a fondo e carragenina che non so cosa sia per la morbidezza sono 250 grammi questo lo utilizzo il weekend e basta praticamente perché bene o male i capelli li lavo un giorno sì un giorno no e perché andando in palestra li lavo un pochino più frequentemente e visto che costa veramente tanto per essere uno shampoo questo è il formato medio e costa 17 euro cioè per me è un'eresia però mi ci sono trovata bene con quello più piccolo ho deciso di acquistarlo in taglia più grande conveniva prendere quella ancora più grande perché mi pare venisse sulle 20-21 euro però a parte che non c'era e poi veramente c'è già 17 euro sono tanti quindi lo utilizzo il weekend quando magari comunque devo uscire eccetera quando invece devo lavare i capelli quotidianamente ne uso quelli della Garnier insomma quelli un pochino più così perché tanto poi li lavo frequentemente ok poi sono andata da NYX da NYX ho preso in offerta mi sa solamente questo questo qua credo sia non mi ricordo sì il double stack di mascara spero si pronunci così per 10 euro e 50 se non sbaglio invece di 17 euro e 50 è un mascara doppio da una parte c'ha il nero e dall'altra quello bianco c'ha le fibre bianche che vanno messe e poi va ripassato il mascara nero per allungarle a me non stanno molto simpatici questo tipo di mascara però volevo provarlo per vedere com'era visto che ne ho sentito parlare bene le commesse lo consigliano tantissimo niente a me oggi se non mi casca tutto non sto contenta quindi ecco queste sono due mascara poi magari vi farò sapere pensavo di fare un video paragone tra questo qui e quello nuovo di Essence che appunto ho scordato in macchina ma che credo sia abbastanza recente quindi fatemi sapere se vi interessa vederlo applicato poi ho preso due paglie di ciglia finte proprio perché mi ci sto mettendo di impegno a imparare a metterle e queste venivano 7,91 sono le Wicked Lashes e sono la 09 queste e le 06 le 06 si chiamano Sinful e queste Jezebel Jezebel vabbè sono queste qua quindi sto cercando di imparare visto che con quelli altri di NYX mi ci sono trovata bene ne ho volute prendere altre due paglie diversi proprio per provare a metterle il più spesso possibile e le sto applicando con la colla per ciglia finte di Mulac che per me che sono abbastanza ignorante in materia mi sembra abbastanza buona però poi c'è chi ne sa più di me di ciglia finte sicuramente ho preso un nuovo rossetto una lip suede matte questa è in London sono uscite queste nuove lip suede e mi ha detto la commessa che hanno cambiato la formulazione o comunque ci sono delle nuove colorazioni con nuove formulazioni proprio perché appunto se avete visto ve lo lascio qui nei consigliati il video di tutti i rossetti di NYX applicati sulle labbra che ho trovato nel calendario dell'avvento non mi era piaciuta molto la stesura perché era un pochino troppo poco omogenea quindi mi ha detto che le hanno rifatte io vabbè ho provato questa che è nuova che è bellissima perché ha un colore metallico ci sono delle colorazioni veramente veramente belle e questo è il colore e assomiglia un tantino a Grace di Nabla è questa qua questa mi assomiglia questa forse ha un pochino più di riflessi almeno a vederla così non l'ho ancora provata questa probabilmente se vi interessa poi la proveremo su Instagram insieme e poi ho preso un fondotinta per chi era curioso di provarlo questo l'ho pagato 15 euro e 90 ed è il total control quelli la liquidi sapete quelli a pompettina e 15 e 90 ho preso la porrazione buff no si la 10 non lo so come si chiama grito buff 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 e questo vorrei farvi un video di quelli sapete iniziamo la mattina e finiamo la sera se vi può interessare e sono penso sempre 30 no sono 13 ml non è poco cioè la quantità è veramente poco deve essere molto liquido infatti dice di agitarlo bene e qua vi da le varie istruzioni se volete un'applicazione un pochino meno cioè un po' più leggera media o più coprente quante gocce aggiungere quindi se vi interessa potremmo provarlo insieme in un video naturalmente fatemi sapere con un commentino ok ultime due cose molto particolari secondo me che non vedo l'ora di provare sono due cose compose da H&M sempre a parte di Roma e sono due cose della skin care credo sia coreana non ne ho la più pallida idea comunque sono queste due cose meravigliose allora questo qui i patch per il contorno occhi al ginseng e all'eucalipto sono appunto due patch da mettere qui sotto li ho pagati aspettate che ce l'ha scritto 4,99 quindi 5 euro che non è pochissimo però vabbè insomma mi piace provare cose nuove e poi hanno queste confezioni che ditemi se non sono bellissime poi con questo sfondo qui ci sta bene anche il panda quindi anche questo poi vi farò sapere e poi per questa 9,99 quindi 10 euro però sono tre prodotti in uno praticamente c'è il primo step che è diviso in tre parti due quadretti e questa lunga in questa parte c'è il cleansing quindi per lavarsi la faccia prima di applicare la maschera ah no prima ah no scusate sì allora prima c'è ho letto tre invece è il nome della maschera è tre step mask e appunto questo è lo step 1 per lavarsi il viso prima di applicare la maschera che è questa qua al carbone credo sia caracol oddio non vorrei dire stupidaggini non lo so non lo so vabbè questa maschera dovrebbe essere nera e poi c'è lo step 3 che è quest'altro quadratino sotto che invece è il siero idratante credo sia quindi il siero da mettere dopo non lo so a parte c'è ripeto le confezioni sono bellissime non le ho mai viste non so dirvi la maschera ma la marca comunque si sono fatte in Corea e io non ho più idea di chi come si chiamino però vabbè guardate guardate questo e poi vi farò sapere nei prodotti finiti se mi è piaciuto o meno e niente ragazzi quindi questi erano i miei acquisti dell'ultimo periodo scusate per l'inquadratura che è un pochino troppo larga però vabbè insomma quando registro col telefono è così ma vorrei montarlo subito e metterlo subito a caricare e niente io spero di avervi fatto un pochino di compagnia vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao